Argomento particolare di C'è posta per te stavolta e non so sinceramente come non cadere nella censura perché ci sono dei fatti veramente particolari. Allora, si parla di una storia di una famiglia divisa dopo l'addio della mamma, quindi la puntata del 21 si è andata ad arricchire come sempre di forti emozioni come conosciamo noi il programma. Il pubblico italiano ha avuto modo di conoscere le vicende di Alessio che dopo l'addio della mamma si è allontanato dalla sorella e dal padre. La storia di Alessio, quindi un abbraccio che arriva dopo quattro anni trascorsi tra accesi scontri e allontanamenti vari, ma C'è posta per te sappiamo che è un programma dove può succedere veramente di tutto e il lieto fine è avvenuto per Salvo, rimasto vedovo e il figlio Alessio. Le vicende burrascose hanno avuto inizio da quando la madre di Alessio è venuta a mancare a causa di un tumore. Il padre di Alessio, Salvo, ha provato a rifarsi una vita al fianco di una nuova compagna, Simona, e da quel momento Alessio non ha più intrattenuto un rapporto con il genitore, addirittura arrivato al punto da condurre Salvo a chiedere l'aiuto del programma per poter recuperare un abbraccio atteso ben quattro lunghi anni. Il loro rapporto si è notevolmente compromesso quando il ragazzo è venuto a sapere che papà Salvo aveva dato a Simona la scheda del telefono della mamma defunta, e già qui cominciano dei fatti strani. Sospetti che piovono sui presunti tradimenti del papà portano infatti Alessio e la compagna Veronica a lasciare definitivamente proprio la regione, la Sicilia. Dicendo di mamma ce n'è soltanto una e non può prendere il posto della mamma. Queste sono state le parole di Alessio arrivato in studio davanti alla busta, busta ancora chiusa. Dall'altro lato della busta papà Salvo, la figlia Giulia e sorella di Alessio e la compagna Simona che rivolgendosi ai due ragazzi hanno detto vedo ogni giorno tuo padre soffrire per la tua mancanza. Poi le parole della sorella Giulia con le lacrime agli occhi provata già dalla situazione. Sono arrabbiatissima e anche delusa, perché sei mio fratello e avevo bisogno di te, soprattutto in quel periodo lì. Avevo solo 13 anni e ci sto male ancora per non avere questa famiglia unita. Ma la situazione in pratica si va un pochino a peggiorare quando Veronica ha raccontato a proposito di Salvo ed è qui che ci sono racconti un po' sciocchiandi. È venuto con una catena e un taglierino sotto casa minacciandomi. Episodio che Salvo ha subito commentato così. Eh ma ero accecato dalla rabbia. E questa sappiamo che non è una scusa no? E Alessio mi piange soltanto il cuore a lasciare da sola mia sorella Giulia dopo quattro anni che non ci parliamo più. Allora a questo punto Salvo se ne esce fa. Sono qui per chiederti perdono. La parola scusa sembra facile ma purtroppo a volte oltre a quella parola una persona non può dire altro. Semplicemente dopo la parola dovrebbe esserci fatti. E questo suggerisce Maria De Filippi. Finalmente però la busta, arriva il momento della busta perché dice io apro la busta, accetto tutto, ma non vorrei che lui un domani poi fosse punto e a capo. Deve recuperare e deve farlo alla grande. Quindi signori abbiamo comunque il lieto fine in questa storia e sta a lui. Sta a lui cercare di comportarsi bene. La grande opportunità gli è stata data perché togliendo la busta automaticamente è come per dire sì la possibilità te la do. Vedremo se ci sarà qualche sviluppo su questa vicenda e io vi ringrazio intanto per l'ascolto di questo video. Noi ci sentiremo alla prossima come sempre.